Sapete che mancano medici in Italia, sia negli ospedali che nella sanità del territorio, di medicina generale. E sapete che ci dicono che è perché c'è stata un'errata programmazione nelle facoltà di medicina. Invece non è così, il motivo è tutto un altro. E' andato a dirlo a una convention sulla sanità a Milano un primario di Padova, che si chiama Giampiero Avruscio e conosco molto bene. Avruscio è responsabile per Forza Italia della sanità nel Veneto. E la cosa fantastica è che è andato a fare un discorso di estrema sinistra in un partito di centrodestra. Un discorso che per esempio non ho mai sentito fare dall'ex ministro Speranza, che pure è di sinistra italiana e che ha anche scritto un libro, anche se un po' affrettato durante il Covid, visto che l'ha ritirato subito dopo averlo scritto. Ma invece il vero libro da scrivere è quello del discorso fatto da Avruscio a Milano. Allora non è vero che non ci sono medici. I medici ci sono, solo che vanno a lavorare nel settore privato convenzionato in Italia, oppure vanno all'estero. Vanno a lavorare in Germania, in Francia, in Inghilterra. Mentre non ci sono medici inglesi, francesi o tedeschi che vengono a lavorare in Italia. Come mai? Avruscio lo spiega bene. Dice, tutti noi medici veniamo fuori dalle stesse facoltà con la stessa laurea. Però cosa succede quando andiamo a lavorare? Che se andiamo nel settore privato convenzionato, lo Stato ci fa un certo tipo di contratto con un certo trattamento economico. Se invece andiamo a lavorare nel settore pubblico, lo Stato ci fa un altro contratto con un trattamento economico inferiore. Bisogna avere il coraggio, lo Stato deve avere il coraggio, di fare un unico contratto per tutti i medici. Perché tutti i medici hanno a che fare con lo stesso paziente. Ed è il paziente al centro del sistema sanitario nazionale. Lo dicono tutti i documenti dello Stato, delle regioni. Invece dice, Avruscio non è vero niente, al centro del sistema sanitario nazionale non c'è il paziente ma c'è l'organizzazione. Il paziente, poveretto, ruota i margini sballottato di qua e di là. Ecco, solo in questo momento è partito un applauso da parte del pubblico che lo ascoltava. Secondo me l'applauso dovrebbe partire anche prima quando parlava di contratti. Avruscio poi mi ha detto che alla fine della convenzione Letizia Moratti che presideva l'incontro ed è responsabile per la sanità nazionale di Forza Italia è andata a ringraziarlo e a complimentarsi con lui. Ecco, io spero che non sia stato solo un ringraziamento o un complimento di buona educazione.